Eleonora Micarelli, oggi lo show cooking con un piatto della tradizione scannese che insomma si riesce a trovare in tutti i ristoranti della Valenza Agitareo. Ricordiamo il nome? Sono i chezzillitti con le foia, che sono degli gnocchetti tipici scannesi prodotti esclusivamente con acqua e farina e in questo caso utilizziamo una farina di grano solina che è un antico grano abruzzese che è stato reimpiantato in queste zone proprio perché si presta facilmente alla coltivazione d'altura. È un grano povero in glutine, quindi adatto anche ai celiaci e viene abbinato in questo piatto, questo gnocchetto tipico con quelle che sono chiamate le foia che sono praticamente la parte fogliare della cima di rapa, il broccoletto con un lieve fondo di alici e un po' di pomodoro per rendere la salsa più cremosa ed è proprio un piatto caratteristico della cucina povera pastorale proprio perché comunque sono gli ingredienti che più facilmente si potevano trovare in montagna ed erano comunque un piatto adatto a riempire lo stomaco del pastore e quindi è un piatto che si può ritrovare in tutti i ristoranti scannesi. Poi ci sono diverse varianti, c'è chi lo fa col pomodoro, chi lo fa senza, chi gli fa la punta, chi non gli fa la punta però insomma queste sono le reminescenze delle attitudini delle nostre nonne però il piatto è estremamente diffuso. Tu hai una formazione all'alberghiero di Villa Santa Maria poi una laurea in scienze gastronomiche per l'Università di Parma. Perfetto, si riesce ad esprimere in maniera concreta un territorio, una regione? Beh diciamo che l'Abruzzo è estremamente rappresentato a livello culinario sia nella nostra regione sia per quello che è il marketing fuori regione perché comunque essendo una regione che spazia completamente dal mare alla montagna abbiamo una vastità di ricette quindi comunque un aspetto gastronomico regionale molto molto ricco che fa sì che si possano ritrovare tutti gli ingredienti. La particolarità secondo me della cucina abruzzese è che lo stesso piatto assume tante connotazioni spostandosi anche di pochissimi chilometri perché già fra Scanno e Villa Lago che è semplicemente dall'altro lato del lago il Chezzellitto è diverso. Qual è lo stato di salute di questa associazione e soprattutto in che modo vi proponete? La cooperativa vive e sta bene De Gu Scanno dimostra il fatto che operiamo e cerchiamo di far conoscere Scanno e tutta la valle in giro per l'Italia cerchiamo di pubblicizzarla in tutti i modi tramite media, interviste e quant'altro. e tramite anche eventi tipo questo cerchiamo di mettere in risalto tutte le peculiarità, tutte le ricchezze di questo territorio che sono tante. Quali sono le icone più rappresentative? Intanto siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo quindi la natura poi l'enogastronomia, i nostri pastori i nostri produttori il miele di Scanno le bellezze di Scanno l'arte, la cultura ne abbiamo tantissime